Amici di Arcoiris, benvenuti a questo nuovo incontro della nostra rubrica Leggere negli occhi, in cui incontriamo scrittori di un po' tutti i tipi. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi un tipo di scrittore un po' particolare. Innanzitutto è un poeta, il che lo connota abbastanza fortemente, perché finora non abbiamo ancora avuto ospiti di questo genere. Il suo nome è Vittorio Cielo, l'occasione è la presentazione di un suo libro, che è questo, che si chiama Parole. Un libro molto intenso, molto caldo, possente, definirei, di lettura apparentemente agile, perché parliamo di un libricino molto pratico, anche da tenere in mano, e anche, presumo, prezzo accettabile, che non guasta al giorno d'oggi, ma sicuramente il suo peso specifico non è proporzionale al volume, perché l'intensità degli argomenti affrontati è veramente forte ed è di questo che parleremo con lui. Vi leggo la curiosa quarta di copertina in cui si presenta l'autore. Vittorio Cielo è cresciuto in Toscana in una famiglia di eccentrici, già questa è una connotazione forte. Infatti, il padre bambino faceva la staffetta gabbando i posti di blocco nazisti, e lo zio detiene il record per i ponti fatti saltare come commando del servizio inglese. Notizie molto interessanti, ma ce ne sono ancora di più interessanti, ovvero sia che è un autore, attore e autore. Autore teatrale, ha lavorato con Michele Placido, tra l'altro c'è una bella nota commossa di Michele Placido all'inizio di copertina, che troveremo senz'altro il tempo di leggere. Ha debuttato come attore assieme a Luca Barbareschi, ha vinto premi nel 2000 e nel 2002 e opere sono state prodotte dai teatri Quirini e dal Brancaccio di Roma. Di questo libro scrive che è stato scritto in Provenza nella primavera scorsa, in una baracca sul mare, ed è inedito segnalato al premio Penna 2004. Vorrei che tu Vittorio ci introducessi al clima del tuo libro. Intanto scusami una piccola presentazione, una precisazione, io non ho mai fatto l'attore, faccio l'autore però, ho fatto l'autore molto, no no no, mi piacerebbe anche, mi sarebbe anche piaciuto, nella vita è impossibile sviluppare tutte le ambizioni che abbiamo. Ho fatto l'autore di migliaia di programmi radiofonici, televisivi molti, giornali, radio, eccetera, eccetera. E poi il teatro che è un grande amore perché non si può prescindere da quella specie di bibbia della psiche umana che sono i grandi autori teatrali, che molto più spesso, in maniera molto più schiacciante e potente degli scrittori comunemente detti riescono a sintetizzare delle cose che continuano dopo secoli o millenni a fare male nello stesso identico modo e con la stessa identica sensibilità. Quindi in questo senso mi sento molto molto toccato dal teatro, non come mestiere ma come luogo elettivo in cui d'ogni tanto, raramente o nelle serate fortunate spesso, si riesce a dire ad ascoltare quello che è essenziale a rimanere vivi. Perché si può simulare la vita per anni e poi potentemente entrarci dentro in una fase, in un minuto, in una settimana, in un mese. A volte quando provi un lavoro con degli attori particolarmente dotati hai la grazia, come quando sei innamorato di una persona particolarmente bella e ispirante, di sentirti vivo per un lungo periodo a quel diapason, a quell'altezza di nota per dei periodi piuttosto lunghi e questa è una grazia, bisogna essere grati a chi ce l'ha da, insomma, in questo senso. Credo che il mio apparente lapsus in realtà non sia stato affatto quello di definirti attore, anche perché appena ti ho conosciuto ho visto questo aplomb, diciamo questo fisiotipo di grande partecipante a quello che fai e in qualche modo nel tuo testo c'è un attore forte e questa è la prima domanda che ti volevo fare, che viene definito appunto l'autore con la maiuscola oppure il vecchio pittore, un altro forte protagonista. È un mainstream questo libro oppure c'è molta letteratura? L'autore è perché l'ho scritto proprio pensando al premio Penna e quindi c'era un messaggio tra il sarcastico e il provocatorio proprio alla giuria che sarebbe andata a leggere questo manoscritto e io ho detto che l'autore si mette a nudo nella condizione servile di essere giudicato e questa è la prima parte, è una sorta di inciso iniziale che alcuni critici hanno letto come una sorta di preghiera laica, teatrale di nuovo perché il mondo viene visto come un immenso teatro greco con tutti noi che siamo asserviti al palcoscenico e che invece non riusciamo a concentrarci sulle teste, sulle nuche dei poveretti che siamo tutti noi che guardiamo rivolti da una parte che può essere l'altare, il podio elettorale, il podio di borsa, veniamo e siamo vittime, abbiamo migliaia di risparmiatori italiani che sono ridotti sull'astrico per sempre, famiglie intere che hanno dissipato la ricchezza generata a partire dai primi anni 50 ad oggi in una crudele stagione nella quale alcuni operatori molto elegantemente li hanno truffati per sempre della loro ricchezza e dei loro risparmi e questo è l'altare, quelli che stanno sull'altare comunque si salvano e gli uomini delle ultime file vivono un'altra vita, al di là di qualsiasi retorica populista, io non sono un populista, anzi detesto i populisti e mi piacciono le teste di serie, ciò detto non vuol dire che le teste di serie devono praticare la nobile arte della truffa a svantaggio degli altri. Mi hai dato un ottimo spunto per farti una domanda che me l'ha introdotta molto bene, su questa cosa del teatro e di spettatori che guardiamo un po' il mondo che accade attorno a noi, c'è una specie di mantra che rincorre nello scritto dove viene detto sempre Dio, con la D rigorosamente minuscola, abbi pietà di noi uomini delle ultime file, che connotazione dai? Se ti interrompo, non è così, hai centrato perfettamente questo tema del mantra, in una sorta di basso come c'è... Quasi un coro greco che riporta sempre il suo concetto di fondo. Hai ascoltato le note giuste, bravo, hai sentito le note giuste e c'è questo risuono, questo profondo movimento di contrabbassi, di visceralità che è questo. Però non c'è questa nota fortemente cattolica, abbi pietà di noi, no, pietà di noi proprio niente. Noi viviamo la nostra vita, beh non male, alla greca, siamo coscienti che può sfociare tutto in una tragedia in pochi secondi, siamo coscienti che possiamo però avvicinarci, para deos, passiamo avvicinarci agli dei, a volte ci mangiamo insieme, mangiamo la scatoletta, i fagioli, mangiamo quello che ci danno da mangiare, a volte siamo lontanissimi in questo limbo immenso che poi è la vita di tutti. Non c'è questa nota così cattolica, ma c'è una relazione di, senz'altro di preghiera, laica, ma molto forte, senza nessun dubbio. Infatti ribadisco che il Dio è sempre scritto con la D minuscola, che connota fortemente le tue idee. E riprendo un po' il tuo discorso che riporta a una visione piuttosto desolata del mondo. Poi io ho ritrovato anche molte notizie, molta forza di speranza e di guardare avanti, però complessivamente la visione è abbastanza desolata. E a un certo punto descrivi come indispensabile, e uso le tue parole, un atto magico, elegante e inutile. Non dico solo a cosa ti riferisci, ma anche perché tutto è demandabile a un atto magico, elegante e inutile. Perché è l'atto in cui l'uomo si prende la responsabilità di essere creativo. Quell'atto magico, elegante e inutile è essenzialmente il centro della nostra vita. È il momento in cui ti prendi la responsabilità di essere lineare, inespressivo, negativo, oppure di innalzarti verso una possibilità. Puoi anche cercare di fare il grande gesto atletico come in una grande partita di pallone e mancare in maniera ridicola quel pallonetto. O a volte puoi arrivarci e rinizia il gioco di squadra. A quel punto da qualche parte laggiù in fondo c'è qualcuno che prende la stessa palla e la fa diventare una cosa bellissima. Per questo il rapporto anche con un piccolo editore, piccolo con la P maiuscola, è fondamentale perché i grandi editori amano moltissimo i giochi di potere e di affari. I piccoli editori, se hanno il cuore giusto, sanno vedere la palla che stai tirando. E questo è stato bello perché nel momento in cui l'editore Andrea Ulivi, l'edizione della Meridiana, mi ha telefonato, stavo guidando nella terra degli Etruschi, come sempre, e ci siamo subito presi, ho sentito la differenza immensa con un altro editore con cui stavo trattando in quegli stessi giorni, che è stato immediatamente dimenticato da me, perché ne faceva un problema di business. Qui non si fanno i nomi, si fanno anche i cognomi, se vuoi, siamo molto liberi in questo senso. L'importante è dire che l'edizione della Meridiana è condotta da un uomo che si piglia il rischio di giocare questo pallone alto. Può sbucciare, come si dice in Toscana, la palla, può mancarla, può però anche ad ogni tanto fare delle giocate meravigliose. A quel punto va bene tutta la partita, perché abbiamo lavorato per 80 minuti per quei due minuti di magia fantastica, e a quel punto devi riconoscere che c'è un grande uomo dall'altra parte, c'è un grande pubblico, c'è un grande arbitro, e c'è della bellezza in giro a dispetto di quella possibile desolazione che nasce dal fatto che smettiamo di giocare. È tutto molto chiaro, però mi strappi una domanda che volevo fare quasi per conclusiva, ma mi sembra che il momento topico sia adesso. Ed era una domanda sulla poesia come struttura interiore, creativa, abbiamo parlato dell'artista, ma non solo, anche commerciale. Perché in Italia la poesia non si vende? Non si vende perché dicono che è difficile, che è un genere non popolare, eccetera. Ma la realtà è che ci dovrebbe essere una logica di mercato esattamente come in qualsiasi altra produzione che ha alle spalle una competenza economica da sviluppare. E in realtà è uno dei pochi casi in cui lo sviluppo non è condizionato, cioè l'acquisto non dipende dall'offerta, ma è il suo contrario, l'offerta dall'acquisto, che secondo me è una follia in primis, e però la poesia è considerata così in Italia. Questo alla luce del fatto che in molte parti del mondo la poesia è un genere con la G maiuscola in Russia, in Romania e in Irlanda, i poeti sono vendutissimi, guarda caso, paesi non civilizzati, diciamo, come il nostro. Come diavolo fare aprire le porte alla poesia? È un percorso da fare, anche in teatro è molto difficile la poesia, nel senso che io l'ho provato sulla mia stessa pelle, anche attori importanti che hanno un mercato riconoscono di sentire le cose che scrivi, però poi hanno difficoltà a portarle in scena. E fanno Pierandello, Goldone. Non ceco, tanto per non fare nomi. Cioè Alessandro Aver è la prima volta che ha visto in scena questa cosa mia, che è come intenzione vicina, non ho certo la grandezza di Luzzi, ma la voglia di scrivere teatro di poesia è similare come intenzione. E lui era in platea, in prima fila, alquirino, lui non mi conosceva ancora, io ero tre file più in là di fianco. E a un certo punto, proprio a scena aperta, Alessandro ha sbottato dicendo, a voce alta c'erano tutti, da Albertazzi a Proietti eccetera, lui ha sbottato dicendo, questo è un grande autore, sì però poi non ce la facciamo a portare in scena un autore italiano vivente, che fa delle cose che hanno mille persone che applaudono alquirino. Questo perché il mercato ha deciso a prioristicamente che gli autori nuovi, vivi italiani in genere, o fai parte di una bella mafia molto solida, di ogni tipo, di un grande aggregato, se no semplicemente scrivendo non passi da nessuna parte. A meno che non ci siano degli altri giocatori indipendenti che decidano di volerti bene, di sentire le cose. Devo precisare una cosa, che ad esempio quella lettera così sentita di Michele Placido non è una lettera scontata o data dal fatto che comunque lui l'avrebbe scritta, no, no, lui si è preso del tempo, era già con uno studio intero a Cinecità che lo guardava e si è preso mezza giornata per leggere quello che gli pareva di quello che gli stavo mandando e per scrivere una cosa sua sentita. Questa è una cosa vera che lui ha scritto liberamente. Ecco, questo è il mio tipo di logica. Ci sto mettendo molto tempo perché vedo gente che scrive con molta più difficoltà di quella che ho io, che ha già fatto più cose, a volte nelle mie giornate no, mi provoca rabbia, però devo dire che alla fine sono contento. Io ad alcuni politici intervistando gli ho detto delle cose terribili, distribuiti in tutti i partiti. Appena vedevo che facevano i pesci in barili da bravo livornese rischioso, gli ho detto delle cose terribili e per questo mi ha costretto a fare dei giri di anni o di 5-10 anni. E non ha importanza perché alla fine, invecchiando, l'unica cosa che conta è quanto ti sopporti. E io ti posso assicurare che la gente che ha calato troppe volte i pantaloni, dicendolo volgarmente, poi alla fine ha fatto della strada, ma ha una bassissima stima di se stesso. Io sono stato cresciuto da alcune figure che continuo, dopo aver vissuto una buona parte di vita, ad amare molto. Il fratello di mio padre, che è metallia d'argento della resistenza, non in quanto tale era resistenza, ma come l'ha fatta lui. Lui non ne voleva mai parlare, però una volta da piccolo io continuavo a chiedergli cose su queste grandi avventure e lui mi disse, sai, io i ponti li facevo saltare verso le 4 e mezzo, le 5 di mattina. Stavo attento che non si facesse male a nessuno. Questi sono uomini. Lezioni di vita notevoli. Da vecchio, io non lo vedevo vecchio, ma insomma era vecchio, a un certo punto ha rischiato il divorzio perché aveva trovato in un bosco un cucciolo di volpe e se l'è tenuto nella maglietta, a contatto con la pelle. Per una ventina di giorni questo cucciolo di volpe purtroppo puzzava e la moglie dopo un certo numero di giorni, pur amando gli animali, gli ha posto un out-out e lui gli ha detto, resisti ancora un po' se vuoi. Allora è andato a dormire in una brandina col cucciolo di volpe, il cucciolo di volpe si è salvato e non sono storie buoniste, sono storie di coraggio, nel senso che quanta gente piglia un cucciolo, non di volpe ma anche di cane, ma piglia anche un cucciolo d'uomo e lo mette in mezzo a una strada per rinunciare a una discussione. Quindi troviamo le discussioni. La poesia è un modo di discutere, è un modo anche di penetrare le idee. Vedi, Luzzi è interessante, non perché adesso è senatore, ma perché è un poeta problematico. Possiamo essere d'accordo con alcune sue stagioni, alcune stagioni di Luzzi secondo me sono da Nobel, altre forse meno, ma è solo il mio gusto. Però è un grande autore problematico, gli autori problematici sono interessanti e danno luogo a molte letture. Facciamo un esempio banale dell'ultimo periodo. Il giorno della premiazione del premio Penna c'erano due illustri letterati e hanno letto la stessa opera mia in due modi radicalmente opposti. Uno, Elio Pecora, ha detto che in sostanza io ero colpevole di un'eccessiva felicità del vivere. E quindi mi ha cassato pubblicamente in questo modo, aggiungendo alla fine che forse si sbagliava, però nel frattempo la leggeva così. Invece c'era Pedullà che si è detto deliziato del fatto che avessi voluto rappresentare un uomo così, questo grande pittore che è un po' Picasso, un po' Bukowski, è un uomo comunque è un artista molto vissuto che non rinuncia, come Goethe ha 80 anni, non rinuncia alla libertà di innamorarsi di una bellezza 19enne e rispetto a quello in quel corpo di donna, in quel viso di donna sente la pienezza della vita. E questo è interessante perché due eminenti italianisti e critici con lo stesso testo davanti di manoscritto hanno dato due letture diverse. Questo è interessante, supera il mio fatto personale, per dire come in un poemetto breve di questo tipo alla fine le problematicità e ci sono entrambi le note, come hai fatto notare, danno luogo a finalità, a colori, a letture totalmente diverse. Questo è affascinante. Credo che questo sia un segno della grande vitalità dei testi che non sono monolitici e spesso monocordi, ma è come quando entri a vedere un film e esci e sei pieno di confusione e non di appagamento, di vuoto appagamento. Ecco, credo sia il momento di leggerle queste note commosse dei due famosi autori e attori che abbiamo citato perché hanno uno spessore notevole per quanto riguarda il commento ad un testo come questo. Il testo di Michele Placido dice Benvenuto con i tuoi versi nella migliore poesia italiana in un momento in cui c'è estremo bisogno di poeti come te da opporre a un mondo di parolai e guerrafondai. E un testo così profondo termina con un abbraccio quindi direi che più sentito di così non si può. Alessandro Haber commenta il tuo libro in questo modo come non amare come non amare il vecchio grande pittore che vive e si muove dentro queste pagine ha molto di Picasso di Borges di Bukowski è spudorato pieno di vita di felicità disperata e Aqab sa che la sua balena bianca è il tempo a cui dà la caccia e da cui è cacciato è il ritratto dell'artista da vecchio solo su una spiaggia e insieme circondato dalla cagnara dei media i fabbricanti di scandalo quotidiano. Ma qual è il vero scandalo? accettare di morire di non sentire più niente diventare avari e aridi come una pietra o amare la bellezza in un adolescente e essere amati da lei? La risposta è in questi personaggi che sbraitano commossi parlando una bellissima lingua d'amore credo che siano parole veramente molto belle e che connotano benissimo il tuo libro ora vorrei che tu ci facessi conoscere qualche pagina del tuo libro per entrare ancora di più nel suo sapore e nel suo dolore e amore dopo cercherò di definire meglio queste mie due idee sul tuo libro Sì vorrei iniziare proprio dalla prima pagina in cui c'è il lettore questo soggetto vivente non mi ricordo quale filosofo del novecento forse Heidegger parla del del vivente cioè dell'essere che quando fa una cosa è vivo è quello che è importante è il lettore che è importante lo sguardo che si appoggia sulla pagina e viene invaso dalla luce della cellulosa la pagina il libro è un fortissimo reagente non è per niente passivo è morto poi la carta bella ecco un'altra cosa che mi ha incantato di Andrea il mio editore è che la carta ha un significato per lui lui sceglie la carta bella ma non perché è uno sprecone perché la carta è come è come la tela è come la pasta dei colori quando ritorniamo a Luzzi è la giornata di Luzzi oggi mi è venuto Luzzi ne abbiamo parlato in macchina quando parla di Simone Martini che ha davanti nel Duomo la notte prima di iniziare l'affresco questa immensa campitura bianca e ha vicino nel buio le ciotole dei colori che sono buie perché non c'è luce ma lui le vede le sente vibrare ecco questi sono sono gli oggetti della vita e il libro è morto con la carta brutta non è un libro non è un libro ci sono grandi e piccoli editori che usano delle carte indegne indegne del contatto fisico perché noi abbiamo dei polpastrelli che sono sensibilissimi e un libro con una carta molto bella come erano le vecchie carte in audio altri editori che sceglievano le carte andando nelle 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 fabbriche magari nel nord Europa dove c'era bisogno ecco questo è un libro nel quale la carta già accarezza le dita o viceversa e questo è importantissimo questa carta con questo colore che Andrea ha scelto è benissimo attiva nel rappresentare la parola e l'inizio è proprio questo è l'unico frammento che ho voluto leggere in diverse occasioni perché qui magari se vuoi se sei esigentile leggiamo anche una pagina di più però mi sembra che già per me per me basta già questo primo inizio quando dico il lettore apre la pagina la luce della cellulosa invade il nudo dell'occhio l'incontro tra la sfera aperta e la forma segreta e amata e questo qui c'è già tutto per me non solo la sintesi del tuo libro ma anche la parafrasi e l'apertura al mondo perché avrei voluto mandare al concorso da lì si parte da lì si parte una pagina avrei voluto mi avrebbero chiaramente cacciato dalla finestra ma è importante questo e come l'incontro non a caso ho parlato di incontro tra la sfera aperta la dimensione occhio psiche del lettore e la forma la forma della calligrafia se manoscritto la forma delle lettere noi in Italia abbiamo una tradizione meravigliosa che i nostri ragazzi se invece di rincretinirsi guardando i reality show si occupassero di guardare la forma degli alfabeti che hanno sviluppato i nostri grandi artigiani dal cinquecento in poi e anche prima forse scoprirebbe delle cose meravigliose la forma che non sanno nemmeno esistono purtroppo certo certamente quindi la nobile arte di questi segni che sono misteriosi più guardi una parola e più diventa atavica e misteriosa e la forma anche di una lettera di una parola è segreta e subito dopo è amata perché non può non essere così ecco questo libro non a caso si intitola parole e vorrei dire che proprio leggendo questa tua prima pagina sono entrato un po' nel mondo di Edmond Jabet che ha dedicato al libro tutta la sua passione e la sua vita poi vorrei ancora fare un commento alle cose molto belle che hai detto cioè che il lettore ama i libri e come si può desiderare che una cosa che si ama sia brutta? è assolutamente impossibile ma mi hai strappato menzionando il reality show un'altra domanda che ti volevo fare quindi amo moltissimo la conseguenzialità del nostro discorso che avevo preparato sulla carta ma che invece viene assolutamente spontaneo non sei per niente comprensivo con i media alla tv riservi parole molto dure a un certo punto tutta la vita quindi so tutto vita, morte e miracoli a un certo punto parli del linguaggio l'idiota degli sms e una sezione del libro addirittura si intitola i giornali di arrea dell'uomo ma sono proprio i media i nostri nemici non c'è nessuno scampo? no i media sono ricordi le bellissime parole dei matematici e filosofi e fisici greci sul tema della leva i rapporti di forza i media nella società attuale sono il rapporto di forza peggiorativo di una società che è sostanzialmente aperta nella quale convive il mistico la persona nobilissima e il criminale nel senso umanistico ci sono dei criminali a livello di pericolosità sociale che non lo sono criminali dal punto di vista umanistico e viceversa abbiamo delle persone con la cravatta come dicevo prima che sono fortemente dei criminali dal punto di vista umanistico e sociale quindi i media sono una leva che oggi come oggi è peggiorativa per la dinamica della nostra società aperta e mi rifaccio a Popper cioè parlo parlo dei maestri vorrei aggiungere una cosa non per fare l'apologia della mia infanzia io ho molto sofferto il fatto che mi fosse stata negata la televisione da piccolo perché ero credevo all'epoca vittima di questa famiglia di eccentrici e quando quando volevo vedere Zorro è una cosa che può far ridere spero sono andato supplicando da mio nonno chiedendogli ma perché tu non hai la televisione e voglio vedere Zorro e lui girando la testa con un'occhiata veramente pericolosa mi disse vuoi vedere Zorro sono io Zorro e mi dette un'occhiata tipica dell'assassino cioè mi fece leggere al di là della sua bonomia di nonno le profondità della sua testa e del suo essere e capì che forse se stavo attento in giro lì c'erano dei personaggi che erano misteriosi e leggendari molto più di Zorro 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 della letteratura e della storia che sono attorno a noi però siamo sordi e siamo ciechi e siamo insensibili alla complessità dell'umano che c'è prossimo mentre siamo molto sensibili alla sghignazzata del presentatore televisivo che spesso dice una cosa che è stata scritta da altri autori dietro le quinte tra cui ci sono stato anch'io e non me ne pento nel senso che comunque ho fatto un lavoro civilmente ammissibile però so so queste cose so che ci sono presentatrici televisive che hanno il problema di leggere 40 volte buongiorno sono XY e per 42 volte 48 non mi ricordo c'è stata una mattina in cui una celebrata diva della tv non è stata in grado di dire buongiorno sono Tizia Caia e sono qui per era un periodo molto breve questi sono i personaggi che vengono divinizzati in quest'epoca e che guadagnano alcuni miliardi il tema che sviluppavamo con il nostro editore in macchina stamattina abbiamo giovani straordinariamente geniali che sopravvivono con un 1000 euro al mese e abbiamo personaggi di questo tipo che hanno un eccesso di ricchezza tale da avere poi il problema di dissiparla e allora quello che riescono a inventarsi per dissiparla sono cose assolutamente idiote tipo cocaina eccetera eccetera che sono fortemente criticabili io e alcuni anni che detesto profondamente David Crosby dopo averlo amato molto da giovane quando ho scoperto che lui ha ammesso senza nessun problema in pubblico di aver dissipato 4-5 milioni di dollari in dosi personali di cocaina ecco questa è una cosa da cui non uscirò è molto strano che possa ancora dirlo che non si sia già bevuto il cervello se ne ha spesi altri 4 milioni di dollari per riprendersi per guarire però forse era meglio se faceva qualcos'altro se si apriva una grande biblioteca se non lo so avrebbe potuto fare un miliardo di cose in America con 4 milioni di dollari abbiamo parlato di Zorro del buon fuori legge e quindi anche dei legulei invece che sarebbero da mettere fuori legge e a un certo punto il nostro vecchio pittore subisce un processo allora ti leggo qualcosa che ho sottolineato con piacere leggendo oltraggio non credo vostro cosiddetto onore a quanto data la legge che usate per punirmi 1920 1920 quel 1920 rido ma questa legge è molto più giovane di me giudice davvero giovane ero già al mondo da moltissimo quando questa legge è nata e quindi mi rifiuto di obbedirle la mia domanda è quanto bisogno c'è di ribellione oggi allora ecco qui bisogna fare un distinguo che tutti noi dobbiamo fare il ribellismo generale è stato inteso nella nostra fascia storica negli ultimi trent'anni come una via regia per citare un grande autore russo verso il teppismo e c'è stato anche il ribellismo politico di grande segno che era sostanzialmente teppismo la differenza era sfascio il vetro della cabina telefonica o accoppo il professore universitario però non c'era distanza qualitativa tra i due atti anche se l'atto secondo era terribile era terribile io già stavo lavorando nelle radio libere all'epoca e mi rendevo conto da certi discorsi che c'era chi non aveva capito la distanza dei progetti dei vari progetti che si potevano fare il ribellismo è una cosa il fatto che vitalmente ci si possa assumere la responsabilità di lottare credo in maniera attenta all'altro altro A con la A maiuscola A maiuscola autore altro di nuovo con la A maiuscola lettore con la L maiuscola Dio con la D minuscola perché comunque anche giudice anche giudice con la G minuscola devo dire una cosa che come giornalista a Milano e non soltanto ho conosciuto molti giudici è interessante sarebbe interessante scrivere qualcosa su questo mondo i giudici si dividono in due o tre grandi partiti ma in realtà sono straordinari perché sono ricchissimi di personalità come gli attori e delle distonie della personalità esattamente come gli attori e gli autori quindi non abbiamo una sola magistratura mi fa un po' ridere quando in televisione si sente dire la magistratura no abbiamo le magistrature e ce ne sono almeno attive 400 ma non è un guaio siamo esseri umani come il gran visir tagliava le teste oppure donava cavalli e mandava nel deserto ricchi la magistratura ha queste distonie per cui lo stesso terrorista può essere graziato oppure condannato alle segrete per 50 anni da due giudici diversi per lo stesso reato questo è tipico una tra le cose più belle degli ultimi mesi è che è l'ascolto che ho potuto dare a questo grande magistrato di Roma ancora attivo che mi ha permesso di ripercorrere con i suoi occhi delle grandi inchieste storiche che lui ha seguito tra cui anche il caso Moro ma non soltanto anche l'attentato al Papa è incredibile come all'interno di un gruppo di giudici che stanno lavorando sulle stesse carte lo stesso fatto viene letto in modi radicalmente opposti le interpretazioni storiche sono opposte e questo è affascinante ti chiedo scusa ma ti ricordo che è stato assolto Andreotti a proposito di interpretazioni di testi diametralmente opposte da due giudici poi è un'altra cosa interessante che riguarda anche noi come scrittori la quantità di forma che deve veicolare verso la sostanza e quella la quantità di sostanza che deve passare fino ad arrivare alla forma finale della sentenza e questo è affascinante Andreotti non dimentichiamo che è sempre stato un grande formalista e questo ruolo di stilista nella politica gli è sempre stato riconosciuto e è stato sempre premiato per questo non la sostanza ma la forma no ha avuto è interessante sto seguendo il problema Andreotti da molti decenni ho attraversato tutte le posizioni dall'antipatia più profonda allo studio più attento e devo dire che no c'era un progetto c'era un progetto in lui anche di sostanza per quanto curiosamente aggregato con componenti molto strane aveva una grande ricetta come tanti dei politici del passato lo stesso Cossiga ma possiamo parlare di grandi politici anche a Mendola oppure Berlinguer grandi politici sto parlando di grandi politici che è una grande categoria come gli scrittori con la S maiuscola i grandi politici hanno un sottotesto come i grandi attori giorni fa Cordelli sul Corriere della Sera ha scritto una cosa molto bella su critica ha distrutto criticando zio Vania di Haber però ha detto anche un'altra cosa ha detto è talmente grande attore che non ce la fa fare Vania si è mangiato Vania alla fine è un complimento si è mangiato Vania e ha fatto Haber in Chekhov e questo è tipico dei grandi politici a un certo punto sparisce il loro partito sparisce anche la legge sparisce il contesto storico c'è questa grande recita che è la responsabilità che si prende un grande personaggio questo grande attore che è un po' la falsariga di tutti i nostri grandi ribelli nell'arte è se vuoi un archetipo del protagonista questa è un'epoca di protagonisti i nostri protagonisti minimali del però titanici a loro modo nel nulla dei reality show le presentatrici così sono dei tentativi abortiti di protagonisti e occupano molto spazio anche psichico in milioni di persone perché questa è un'epoca che ha capito molto bene il protagonismo e lo sta declinando in molti modi molto bene peccato che il tempo passi così velocemente con te ascoltandoti perché le cose da dire sarebbero ancora tantissime almeno da parte mia e penso che mi manterrò la libertà di continuare la nostra conversazione in seguito però pur avendo iniziato con il concetto che il tuo libro dava una visione abbastanza desolata di primo acchito sul mondo sul mondo perlomeno dell'autore i messaggi positivi che guardano avanti non sono tutt'altro che secondari anzi e vorrei leggere a questo proposito un piccolo inserto e poi chiederti un commento dove si parla del corpo al quale dai un nome ancora una volta estremamente importante cioè a un certo punto lo chiami il dio inconscio di miliardi di cellule ancora una volta questo dio con la di minuscola che presumo sia uno di quei piccoli dei che tu dicevi prima incontriamo tutti i giorni comunque il concetto del piccolo estratto che voglio leggere è un po' diverso e dice benché si ami con il corpo e per il corpo ho aperto casualmente alla stessa pagina ecco noi della congrega degli uomini siamo talvolta amati esita al vecchio dalla misericordia delle donne per le nostre parole e qui ci sono due grandi temi di questo tuo libro da una parte il fatto che in realtà credi credi in una verità come quella della verità dell'amore perché per il vecchio pittore la giovane ragazza è salvifica e poi e poi il concetto che le parole sono la sostanza di quello che noi viviamo se non avessimo le parole potremmo comunicare con estrema difficoltà molto difficilmente e permettimi prima di chiederti un commento conclusivo a quello che ho voluto leggere di leggere come tu stesso chiudi il tuo libro con un messaggio che io oso dire altissimo perdonatemi se oggi ho molto letto ma questo libro lo richiedeva possano venire a parole i sensi e possano pesare le parole e conferire sapore alle bevande di parole e spezie di parole alla bocca e poco più avanti c'è la chiusa credo come dicevo altissima parole dalla più pura alla zeta estrema verso di te cioè abbiamo parlato di un libro tutt'altro che chiuso ma per cui la comunicazione l'apertura al mondo a tutto all'umanità l'esperienza l'esistenza è verso l'esterno verso gli altri non ho niente da aggiungere nel senso che è perfetto il tuo sentire e mi dà quella felicità straordinaria che ancora una volta dal teatro quando finisce l'ultima parola di un lavoro che tu hai pensato nella tua stanzetta c'è quell'attimo di sospensione poi c'è quel boato cento persone che siano mille come in alcuni casi e tutte stanno sentendo la stessa emozione questo è è un momento altissimo rituale non a caso di nuovo il teatro ma credo la poesia che era il corpo del grande teatro greco perché non dimentichiamoci questo adesso è diventata una sorta di azienda più piccola ma la poesia era corpo di questo grande rito ecco era l'unione poi della comunità e tutti pulsavano sulla grande come nella grande musica classica o sinfonica c'è un pulsare all'unisono molto bene il tempo è passato splendidamente secondo me ringraziamo ancora Vittorio Cielo che ci ha parlato di questo suo intensissimo piccolo grande libretto parole e concludiamo quasi non dico casualmente perché niente accade per caso e lo stiamo sperimentando tutte le volte che ci incontriamo con la nostra piccola chicca finale che negli incontri precedenti è sempre stata piuttosto provocatoria un po' pepata oggi invece ho scelto un autore un po' più felice felice di esserlo felice di scrivere felice di leggere non a caso credo perché abbiamo concluso con parole positive e di felicità e oggi cito infatti Herman Hess che direi era un vero entusiasta della letteratura quel che ci deve importare non è di aver letto e di conoscere il più possibile ma attraverso una scelta libera e personale di capolavori cui ci dedicheremo appieno nelle nostre ore libere di farci un'idea della larghezza e dell'abbondanza di ciò che l'uomo ha pensato e desiderato credo che miglior chiusa a questo incontro con Vittorio Cielo non ci potesse essere grazie e alla prossima grazie grazie